E' un saluto speciale alle festività natalizie oramai giunte al termine e un benvenuto altrettanto speciale al nuovo anno che inizia, quello organizzato sabato sera dal Corro Parrocchiale di Santa Maria dei Miracoli di Andrea e andato in replica il giorno successivo alla Chiesa di Santa Maria Vetere. Un tuffo nella tradizione musicale natalizia più antica, ma anche un passaggio tra i brani più conosciuti di quella moderna. Sotto la direzione del maestro di musica Nicola Prodon e l'accompagnamento all'organo di suo figlio Marco Prodon, il coro ha saputo ricreare nella sontuosa cornice della Basilica Andriese di Santa Maria dei Miracoli le suggestive ed armoniose atmosfere natalizie, variando dal repertorio tipico del genere, dove trovano spazio gli immancabili ad este fidele sette uscendi dalle stelle, ai brani più conosciuti del cantautore John Lennon, Happy Christmas e Imagine, sino ad arrivare all'inno gospel Hello Happy Day, tra i più noti ed antichi della tradizione religiosa. Il direttore Nicola Prodon, insegnante di musica per 18 anni presso il liceo sociale di Andrea e ora professore presso il Garrone di Barletta, si è anche esibito all'antico organo della Chiesa, ristrutturato sullo pochi mesi fa. Della sua attività si ricordano soprattutto i canti e le conferenze dedicate a Monsignor Antonio De Fidio, noto organista Andriese, tra le figure musicali più importanti della città federiciana. La parte finale del concerto è stata dedicata ad alcuni brani di Johann Sebastian Bach, eseguite all'organo dallo stesso Nicola Prodon. Gli appuntamenti musicali con il curo di Santa Maria dei Miracoli terminano con l'Epifania, ma si rinnoveranno come da tradizione anche per le prossime festività natalizie.